La xylella, detta, chiamata volgarmente lo sputacchino, è un batterio killer che davvero ha fatto stragi. Si pensi che la Puglia ha riportato un danno per gli abbattimenti e per i mancati introiti derivanti dalle attività connesse all'ulivo, penso innanzitutto all'ulivo cultura, un danno di un miliardo di euro. Parliamo di 21 milioni di piante che appunto sono state colpite. Vi sono però delle varie responsabilità perché quello che la Commissione europea ha rimproverato allo Stato italiano e quindi diciamo più direttamente alla Puglia è stata una mancata prevenzione. non vi sono stati dei controlli adeguati in grado appunto di prevenire la situazione e comunque se non prevenire non farla deflagrare come invece è accaduto. Poi si sa quando ci sono queste situazioni come nel coronavirus, nello specifico per la xylella, si creano tanti santoni, tanti maestri che molte volte vogliono anche così controbattere e ribaltare quelle che sono le tesi scientifiche. e le tesi scientifiche, è brutto dirlo ma è così, prevedono l'abbattimento, prevedono l'eradicazione. Questo è il quadro della xylella e la regione tra vari ricorsi, tra situazioni amministrative pendenti, ha perso parecchio tempo e nel frattempo gli alberi appunto venivano sempre più contagiati. Che tristezza vedere i verdi ulivi e qui ne ho uno al mio fianco piccolo, è un giovane ulivo simbolo di speranza, da verdi diventare color rossastro, marrone, color ruggine che è appunto il segno dell'aggressione della xylella.